Nel video precedente abbiamo visto come lavorare con l'animazione del tempo insieme all'animazione dello spazio che abbiamo già iniziato a vedere precedentemente, quindi è possibile lavorare con effetti di rallentamento, quindi il cosiddetto slow motion oppure di velocizzazione del filmato o anche di fermo fotogramma andando ad agire sul tempo, sia con gli effetti che possiamo applicare direttamente sul metraggio che ci interessa, sia attraverso l'impostazione del layer, del livello. Abbiamo anche rivisto la parte riguardante la sfocatura di movimento o motion blur e anche la parte riguardante la fusione dei fotogrammi con le sue diverse modalità per poter migliorare e ricreare un movimento fluido qualora andassimo a rallentare il filmato e quindi sostanzialmente qualora avessimo bisogno di più fotogrammi all'interno del metraggio. In questo video continuiamo con gli effetti, quindi creo una nuova composizione, creo un nuovo progetto e iniziamo direttamente con il testo. Questa volta voglio creare il testo qui direttamente con lo strumento testo orizzontale e vado a inserire semplicemente un riempitivo, quindi il classico lorem ipsum. Ora, in questo caso sto utilizzando già un font specifico, una determinata impostazione del paragrafo, ne abbiamo già parlato precedentemente. Posso spostarmi nei vari spazi di lavoro, vedete che abbiamo ovviamente poi la possibilità di muoverci come abbiamo visto tra animazione, colore, effetti. Vedete che c'è appunto una impostazione specifica per gli effetti speciali, quindi in questo caso guardate sempre se esiste appunto un'interfaccia già fraimpostata, altrimenti potete impostarla voi come volete. In questo caso quindi andiamo direttamente su effetti, quali sono i pannelli più importanti per quanto riguarda gli effetti? Sono fondamentalmente due, quindi il pannello degli effetti che troviamo solitamente qui sulla destra, quindi effetti e predefiniti, e il pannello controllo effetti che troviamo solitamente qui sulla sinistra che va a sovrapporsi al progetto. Se non abbiamo questi due pannelli li troviamo come sempre su finestra all'interno della lista dei pannelli disponibili. Iniziamo con il testo perché è uno degli effetti più semplici appunto da applicare. Ora come vedete qui in basso noi abbiamo anche animazione testo, quindi possiamo cliccare direttamente su aggiungi animatore. Che significa predefiniti? Significa che sono delle impostazioni che non dobbiamo fare noi, non dobbiamo animare noi, ma vanno applicate direttamente sulla traccia. Se clicco su aggiungi animatore vado a inserire all'interno della traccia un altro animatore che magari non era presente precedentemente, per esempio il colore di riempimento, il colore del tratto, la spaziatura e via dicendo. Se non sono già presenti quindi all'interno della traccia li possiamo sempre aggiungere noi. In questo caso vedete che sul testo magari non abbiamo appunto tutti i parametri che cerchiamo, possiamo anche cliccare qui e aggiungere da qua un valore in più, per esempio l'opacità. Quindi per fare una dissolvenza d'entrata manuale, in questo caso non predefinita, presettata, andrei a fare per esempio 0 sul primo punto e poi magari dopo un secondo 100% di opacità. E quindi in questo caso sono io che fondamentalmente costruisco la mia animazione da 0, altrimenti appunto andiamo su effetti e predefiniti. Quindi scorriamo in basso, come noterete esistono tantissimi predefiniti che riguardano l'audio, possono riguardate appunto come abbiamo visto anche precedentemente la correzione del colore o la trasparenza, quindi andate a vedere cartella che pensate sia per la vostra situazione specifica. Altrimenti un'altra cosa che possiamo fare è andare su animazione e andare su sfoglia predefiniti. Vedete che ho il layer del testo selezionato e vado, come vedete adesso, in Adobe Bridge. Abbiamo già parlato di Adobe Bridge precedentemente, ovviamente a questo punto del corso siamo in un livello un pochino più avanzato e fondamentalmente vedete che qui siamo all'interno della cartella Presets, all'interno della cartella di After Effects e quindi qua stiamo visualizzando una serie di cartelle. Attenzione sempre alla modalità di visualizzazione che state utilizzando all'interno di Adobe Bridge. In questo caso vedete che ho appunto una serie di cartelle che riguardano effetti speciali, forme, suoni e come vedete qui c'è una cartella proprio riguardante i testi. Abbiamo poi anche le transizioni e altri effetti particolari. Andiamo per esempio su Text, facciamo un doppio clic e qui di nuovo abbiamo una serie di cartelle. Per esempio una serie di cartelle riguardanti il testo 3D, l'animazione in, cioè significa in entrata, animazione out, in uscita, sfocature, curve e molto altro. Come vedete, diciamo andare a esplorare tutte quante queste cartelle richiede sicuramente molto tempo. Andiamo per esempio su Animate In. Come vedete qui esiste una serie di effetti presentati che noi possiamo anche vedere in anteprima grazie a Bridge che ci permettono appunto di applicare, senza dover andare per esempio noi ad animare in questo modo gli effetti, applicarli direttamente al livello su cui stiamo lavorando. Per esempio se ho dei titoli di testo, di presentazione, di un filmato, come potrebbe essere magari anche di un film, posso utilizzare tutti questi effetti già presentati. Ripeto, è inutile ovviamente andarle a utilizzare tutti, ma semplicemente ne utilizzerò qualcuno di questi per fare un esempio. Come vedete sono tantissimi, quindi ce ne sono, diciamo, per tutti i gusti. Per esempio se prendo un semplice typewriter, quindi macchina da scrivere, è un effetto appunto di scrittura sullo schermo. Quindi vado a fare doppio clic sull'effetto e automaticamente questo verrà applicato. Vedete che ora se vado all'interno della traccia del testo, vedete qui nella parte riguardante gli effetti, ho appunto un'animazione con una fotogramma chiave d'ingresso, quindi da 0 a 100, diciamo così, e posso gestire anche appunto l'effetto nei suoi vari valori. Proviamo a fare barra spaziatrice e vediamo l'effetto. Ed eccolo qua. Quindi questa potrebbe essere una possibilità, se voglio allungare il tempo ovviamente per apprezzare un po' meglio l'entrata dei caratteri con animazione macchina da scrivere, allungo ovviamente la distanza tra il fotogramma 1 e il fotogramma 2. In questo caso fotogrammi chiave. Quindi se utilizziamo Adobe Bridge saremo avvantaggiati perché riusciamo a vedere l'anteprima dell'effetto che andremo ad applicare. Ora qui ho bisogno di un pochino più di spazio perché ho, diciamo, coperto con l'animazione fino a 20 secondi, quindi andrò su composizione, impostazioni e composizione, e aggiungerò altri 10 secondi circa. Dal, diciamo, 25esimo secondo voglio aggiungere un altro effetto. Quindi come prima cosa allungo la traccia del testo cliccando e trascinando col sinistro e poi all'incirca appunto 25 secondi, eppure posso digitare direttamente qui sul timecode 25 secondi per essere preciso, vado ad aggiungere un'altra animazione. Quindi se non ho Adobe Bridge vado direttamente su effetti predefiniti. Come vedete abbiamo le stesse cartelle, in questo caso un po' più compattate. Non vado all'interno di testo perché all'interno di testo troverò effetti specifici per il testo, che sono, per esempio, il codice temporale, che potremmo mettere anche all'interno come ulteriore effetto, che vedete viene visualizzato qua come un piccolo contatore, diciamo, del tempo. Oppure possiamo mettere numeri. Possiamo anche trascinare l'effetto sul livello cliccando e trascinando sulla composizione. Ok, in questo caso vedete che i numeri hanno sostituito la visibilità, quindi per il momento non lo applichiamo. Quindi attenzione che gli effetti non entrino in conflitto tra di loro. Quindi dobbiamo cercare, se vogliamo, per esempio, fare una animate out, cioè una animazione in uscita per il testo, all'interno di predefiniti animazione, quindi qua sono appunto quelli, diciamo, un pochino più avanzati, impostati, testo, e animate out. Quindi non possiamo vederli in atteprima, ma semplicemente li inseriremo, attenzione quindi alla posizione anche del tempo, o direttamente sulla composizione nella schermata, oppure direttamente nella traccia. In questo caso ho selezionato twirl off each line, cioè, diciamo, con una sorta di spirale animata, ecco, dovrebbe andare a togliere i testi lettera per lettera, riga per riga. Ed ecco qui la fine della presenza, diciamo così, del testo all'interno della scena. Essendo anche questi degli effetti molto pesanti a volte, dipende appunto da quante animazioni ci sono all'interno, se c'è l'utilizzo dell'opacità, come abbiamo visto, o della rotazione, dello spostamento, ad ogni modo ricordatevi sempre che potete impostare l'anteprima come volete, quindi magari...